pasta e fasule in marocco, guardate qua, guardate che bello, mamma mia e vai, vai buonissimi cannellini e parmigiano reggiano, non manca mai 1 e 2 e 3 e 4 un filo d'olio l'insalata è immancabile, poi abbiamo l'olive e mettiamo anche un po' di arissa per chi lo vuole per me un pochino un bel succo di mela con lo zenzero e per finire formaggio e che dire, buon appetito a tutti un pochino e che dire, buon appetito a tutti